L'angoscia per l'incertezza della sorte del proprio figlio provoca un dolore inimmaginabile e lo sanno bene i genitori di Francesco Vangeli, il giovane di 26 anni ormai sparito nel nulla dal 10 ottobre scorso. Chi lo conosce teme il peggio perché Francesco non si sarebbe mai allontanato di sua spontanea volontà e la sua storia burrascosa con la fidanzata, condizionata da alti e bassi con l'intromissione di un secondo uomo di San Giovanni di Mileto, pluripedicato e con stretti rapporti e legami parentali con esponenti di primissimo piano della criminalità organizzata non fa che preoccupare ancora di più. Per questo papà Valerio e mamma Elsa non fanno altro che chiedere di sapere dove poter trovare almeno il corpo del figlio per poterlo piangere e dargli una degna sepoltura. Insieme a loro l'altra sera centinaia di persone si sono radunate a sceliti di filandari in un corteo silenzioso e una fiaccolata per tenere accesa l'attenzione sulla sorte ancora avvolta nel mistero del giovane. In testa uno striscione nel quale si poteva leggere «Sarai lontano dai nostri occhi, mai dal nostro cuore. Ti vogliamo bene, Ciccio». La marcia silenziosa, organizzata anche grazie al supporto dell'Associazione Libera e rotta solo dal rumore della pioggia che è iniziata a cadere già dal primo pomeriggio, ha percorso molte strade del piccolo centro del Vibonese, alla quale è seguita una messa nella chiesa del San Pietro Apostolo e una veglia di preghiera preseduta dal parroco Don Alessandro Mazzitelli, non è solo servita per chiedere giustizia per Francesco Vangeli, ma anche per tutte quelle persone che, loro malgrado, rimangono strette nella morsa della cultura e della violenza mafiosa che imperversa in moltissime zone della Calabria. Intanto gli inquirenti continuano le indagini per riportare Francesco a Papa Valerio, Malma Elsa e ai fratelli Marco, Federico e Mariangela.